SIGLA Ripeto, hanno preso l'edificio! Mandate rimposti! Servono rimposti! Quella ti sta benissimo! Ti mette in risalto gli occhi! Tu dici? Se ne compri due, paghi la metà! Wow! Ancora tu? È tuo il negozio? No! È di mio papà! Ah! Quanto è? Ottocento rupie, grazie! Ottocento rupie? Ok, ok! Per te... Cinque e cinquanta! Incredibile! Allora... Tuo padre ti lascia spesso da sola? No, è andato a combattere i ribelli! L'ha obbligato l'esercito indiano, eh? No, è partito volontario! Davvero? Beh... Se fosse stato per me... Non ti avrei lasciato qui da sola! Ok... Queste sono trecento e... Nuova offerta! Quattrocento rupie, più Ganesh! Te lo sconsiglio! È rotto! Vedi? Non conosci la storia! Ganesh affrontò Parashurama mentre era a guardia della porta del padre! Sì, per difendere l'onore del padre, sciva! E restò con la zanna mozzata per la lotta! Mmm... Interessante! Comunque... Non è in vendita! Giusto in tempo! Ok, senti... Seicento rupie, tieni il resto! Ehi, aspetta! Ehi! Ti serve una guida! Eh? E quanto mi costerà? Mia sorella ha bisogno di me! Come le porto la spesa per stasera? Capisco la vostra... Perché mi trattene? Ma il pronte è un ritardo! Il lega che si è levata! Pulimi, Pomo! Devo consegnare queste protiste a Otreggio! Non investe, me ne spandrà! Andate! Venga io! Oh! Devo salire su quel camion prima che parla! Allora, il tuo ganache! Quanto vuoi? Davvero? Non è in vendita! Scusa! Che c'è? Senza offesa! Non vai male con i borseggi! Ma rivolgo il mio ganache! Grazie! Va bene! Complimenti per l'impegno! Non puoi entrare lì dentro senza toglierti le scarpe! Lo so! Volevo solo vedere la manda! Troppi soldati! Merda! Aspetta un po'! Tu non sei una turista, vero? Sembra tutto in reno! Signora! È tutto in sconto! Grazie! Abbiamo da fare qui! Ho già quello che mi serve! Grazie! Lavori per la CIA? Perché sarebbe una forza! Nessuno può attraversare il ponte, è troppo pericoloso! Senti, piccola, ci siamo divertite, ma adesso devi andartene! Ho un letto in più in negozio! 300 rupie! È il prezzo migliore di tutta l'India! Ok, no grazie! Devo salire sul camion! Pessima idea! I ribelli sono gente cattiva! Ascolta, devo aiutare un amico, ok? Senti qua, quando torno, ti offro una pizza, ok? Ok! Bene! Merda! Diavolo! Signore, signore! Aspetta! Oddio! Ha perso il mio papà, stavamo mangiando un gelato, ma non lo trovo più! Non posso tornare a casa senza di lui! Tutto ok, tutto ok, cosa succede? Era proprio lì, in piedi! Un attimo, eccolo! Andui! Stiamo portando profisti aia! Silenzio! Poveri Cristi! Ok, porta rossa. È questa? Meglio di niente. Andiamo. È solo una zona di guerra attiva, niente di speciale. Perchè sono ancora qui? Via, finché siete in tempo. Via, via, via! Andiamo! È qui dentro! Che state facendo? Andiamo! Oh! Che prego! Subito! Non ho fatto niente! Maledette spie! Cosa? No! Tu! Silenzio! Sta mentendo! No! Sul furgone! Muoviti! Avete sbagliato! Ve lo giuro! Sul furgone, ho detto! Ora! Se si muove, sparagli! Signor sì. Tu, con me! Ehi, 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 ehi! Niente stupidaggini! Va a casa! Stronzi! Fuori dai piedi! Cammina! Merda, un posto di blocco! Mi sa che non ho scelta. Ehi, aspetta! Quanta fretta! Chi mi dice che non vendi merce di contrabbando? Braccia su. Ehi! È pericoloso uscire a questo... Ehi! Dove abiti? Ehi, sei sorda? Rispondigli! Ti ho fatto una domanda. Dove abiti? Alla rafta. No, adesso non posso. Invece puoi? Sì, signore. Ti aspetto dentro. Ricevuto. Tu, con me. La mitragliatrice. Signore! Riguardo a lei? Lasciala passare. L'hai sentito? Su, muoviti! Per loro fortuna ho altro da fare. Porta rossa. Trovata. Qu'è? Sì, io! L'hai sentito. Qu'è? Qu'è? Qu'è perché? Qu'è questa? Qu'è questo? Ah, non fuma. Sei inutile. Se non guadagno, non mi interessa. Fine della storia. Merda. Su, andiamo, amico. Merda. Si avvicinano. Non dovremmo stare in strada. Tra un'ora finiamo il turno. Ok. Ok. Pensa all'obiettivo finale. Oh, merda. Hai quella bottiglia di arracca al cocco? Potrei. Pink Lotus. Che significa? Pensa all'obiettivo. Pensa. 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 Qualcun altro? No? Il diavolo! Oddio! Oh, l'esercito indiano fa sul serio. Grazie.